La questione giovanile credo sia la questione fondamentale del nostro Paese, studio, lavoro, capacità di creare opportunità per le giovani generazioni, capacità di mettere in dialogo e in comunicazione le istituzioni con le giovani generazioni, non un atteggiamento paternalistico ma di dialogo, di dialettica, anche di conflitto nell'ambito della discussione che è consentita, può produrre risultati positivi. Bene fa la scuola di Villa Umbra insieme alla regione dell'Umbra pensare di costruire un percorso che parte dalla necessità di un assetto normativo e legislativo che è un po' il testo unico sulle politiche giovanili che deve essere redatto con tutti i protagonisti, molto semplice, molto leggibile, molto attuabile e poi la possibilità di conoscere e attuare tutti i canali di costruzione di progetti. Quelli regionali, quelli locali, quelli nazionali e quelli europei, non alle divisioni, sia al dialogo sia ad una regione, a città per giovani.